Quelli dell'Ive sono circa 150 allievi transitati tra il 1950 e il 1970 nell'Istituto Vittorio Emanuele, l'imponente struttura che domina l'omonima piazza al centro di Giovinazzo, nel Barese. 150 testimoni viventi degli oltre 8000 ragazzi che risultano dai registri storici del periodo 1868-2003. Quelli dell'Ive si sono riuniti in associazione e si incontrano periodicamente per un tuffo nel passato e per tenere viva la memoria. Chiedono inoltre di istituire un museo che raccolga documenti, testimonianze, foto, ma anche manufatti, mobili d'epoca e quadri realizzati dagli allievi nel corso del tempo. Paramenti sacri confezionati dalle suore, spartiti musicali e strumenti in ottone, alcuni eccezionalmente rari, utilizzati dalla gloriosa banda musicale molto apprezzata in tutta la provincia. L'Istituto Vittorio Emanuele II, edificato dai padri domenicani a partire dal 1704 e sede del convento fino al 1809, quando fu destinato agli studi universitari, e successivamente trasformato in reclusorio dei trovatelli, dei poveri, a opificio e carcere correzionale per volere di regio Acchino-Miorà nel 1813, divenne poi regio Ospizio nel 1819, per gli accattoni, i vagabondi, per le province di Terra d'Otranto e Terra di Bari. Collegio Gille, durante il periodo fascista e della Seconda Guerra Mondiale, infine Istituto, chiuso nel 1990. Quelli dell'Ive si sono riuniti ieri per la quinta volta, in una mattinata scivolata sull'onda dei ricordi, tenuti insieme dal filo rosso della nostalgia, palpabile durante la proiezione delle foto in bianco e nero e la visita delle stanze della loro infanzia, che li videro crescere e diventare uomini, oggi affermati come dottori, professori, dirigenti, frati missionari e artigiani sparsi in Italia e nel mondo.